L'anno trovata alle 5 del mattino, riversa a terra. Hilda Verokai, classe 1929, è morta molto probabilmente per assideramento. La donna, residente in località Verokai, a nord del centro di Cortina, era uscita di casa con il deambulatore. Era da sola ed è caduta a breve distanza dalla sua abitazione. La notte ampezzana, con le sue temperature alcuni gradi sotto lo zero, non le ha lasciato scampo. Sul posto, i carabinieri della compagnia di Cortina per i rilievi di Erito. Essendo chiara la causa accidentale, la salma è stata subito a messa a disposizione dei familiari. Nella notte è divampato anche un incendio in località Valvisdende, nel comune di San Pietro di Cadore, che ha visto coinvolta l'intera struttura dell'azienda agricola Malga Pramarino, causando ingenti danni. Nessuna persona però è rimasta ferita. I vigili del fuoco, all'opera dalle 10 del mattino, hanno lavorato a lungo per domare il rogo. A seguito della segnalazione di un escursionista, la squadra di soccorso è stata elitrasportata in loco in quanto la neve ha reso inaccessibile la Malga per i mezzi di soccorso ordinari.